Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. L'anticiclone subtropicale continua a sferzare il centro e il sud e determina condizioni metrologiche da piena estate. Il nord invece fa i conti con un flusso d'aria più instabile proveniente da ovest che porta temporali localmente di forte entità. Per quanto riguarda questo giovedì 26 maggio in Abruzzo ci aspettiamo una giornata ricca di nuvolosità. Saranno nubi medio-alte ricche di pulviscolo sahariano in sospensione alle medio-alte quote. Non ci saranno particolari fenomeni annessi. Qualche sprazzo di sole al mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature in lieve momentaneo calo, valori tra i 26 e i 28 gradi, minime tra 14 e 20 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti.